Il caso Lazio-Milan è solo la goccia che fa traboccare il vaso, è solo la scintilla che mancava nella diatriba aperta, nei contrasti, negli attriti tra la Lega Serie A e la FIGC. Parliamo ovviamente delle dichiarazioni di Lotito che torna a parlare dopo aver parlato poche ore prima e aveva parlato proprio di una Serie A che deve staccarsi dalla FIGC, una Serie A modello Premier League adocendo una serie di motivazioni e di argomentazioni che non sono portate avanti solo da Lotito, anzi c'è sdegno e c'è anche contrarietà da parte del presidente della Lega Serie A, Casini, nell'ambito dei discorsi con la FIGC per eventuali riforme. Insomma è una Serie A sempre più in contrasto con la FIGC e il caso dell'arbitraggio di Bello e della gestione arbitrale degli episodi in Lazio-Milan è soltanto la punta dell'iceberg. O meglio potrebbe essere un nuovo caso Sbelli, è un'occasione per Lotito per tuonare ai microfoni come appunto ha fatto dopo la partita senza giudicare tanto l'arbitro e l'arbitraggio dicendo neanche lo conosco ma parlando più in generale di un'affidabilità del sistema che non è più garantita. Insomma quasi di Bello ha fatto un favore a Lotito che non vedeva l'ora di poter tornare a specificare queste cose dando maggior consistenza a questa battaglia che sta portando avanti e che ripeto è condivisa anche da altri presidenti e quindi da altre società. Il tema fondamentale è il peso nel diritto di voto, cioè la Lega Serie A nell'ambito dell'Assemblea con la FIGC, quindi nell'ambito istituzionale con la FIGC ha un peso politico nel senso come valore della parte rappresentativa, quindi valore nell'ambito dei voti, che è inferiore al peso della Lega Pro, quindi della Serie C e di molto inferiore addirittura quasi un terzo rispetto alla Lega Nazionale di Lettanti. Persino i calciatori hanno un peso politico maggiore, i rappresentanti dei calciatori, rispetto a tutta quanta la Serie A. Ed è stato calcolato che nel calcio mondiale la Lega Serie A, nell'ambito della federazione, è una delle leghe nazionali, è uno dei principali campionati che hanno minor peso politico, minor valore percentuale nell'ambito decisionale rispetto a tutti gli altri. È chiaro che poi ogni paese ha le sue peculiarità, anche giuridiche, anche sociali, però oggettivamente nell'ambito della situazione italiana è un po' una cosa strana, è un po' una stortura, è un po' un difetto grave il fatto che le caserie A abbiano allo specifico solo il 12% del peso decisionale. Certo è che non è una novità, non è successo all'improvviso, era già così. Allora perché adesso è diventato un problema? Evidentemente perché chi riesce a gestire quel 12%, quindi fondamentalmente chi ha la maggioranza poi all'interno della rappresentatività della Lega Serie A, ha perso la maggioranza al di fuori di Lega Serie A. E quindi evidentemente per certe riforme, soprattutto la riduzione del campionato da 20 a 18 squadre, servirebbe il supporto anche magari della Lega DB e della Lega Pro, che non c'è. E allora ecco che diventa un problema come viene distribuito il diritto di voto. Lega Serie A che è impegnato su vari fronti, anche mediatici, anche di marketing, e che ovviamente guarda con grandissimo interesse al discorso dei diritti TV, indubbiamente per tutte quelle che possono essere poi ulteriori riforme che possano migliorare la tenuta del campionato, ma sicuramente anche i ricavi, anzi direi soprattutto i ricavi, più che la competitività sul piano strettamente sportivo, che è solo qualcosa di trainato, non è esattamente la priorità di questi presidenti e di questi club. E Lotito aveva detto, infatti, poco prima di Lazio-Milan, faremo causa alla FIGC per trasformare la Serie A in una nuova Premier League. Ora, questo è possibile, sicuramente, lo potranno fare, bisognerà vedere se ci riusciranno, ma tecnicamente non è escluso, piuttosto bisogna vedere, adesso più avanti, perché questo è solo l'inizio, o forse l'esplodere iniziale di una vicenda più ampia, come reagirà la FIGC, come si comporterà, cosa deciderà di concedere a Lega Serie A in termini proprio di riforme, quindi di decisioni concrete, o eventualmente anche in termini di autonomia. Sullo sfondo ci sono anche tante questioni, che magari non riusciamo in questo momento a intravedere, tra cui, per esempio, anche l'AIA, che cambia il suo inquadramento istituzionale. Quindi arbitri che sono magari riconducibili alla stessa Lega Serie A, per esempio, non più la FIGC. Insomma, parlando di autonomia, le novità, le riforme possono essere tanti, i cambiamenti possono essere tanti, e andare poi anche ad incidere sul calcio giocato, quello che poi viene percepito e vissuto dai tifosi in prima persona. È una questione più politica che giuridica, come appunto accennavo, sorgono ed emergono questi problemi perché evidentemente non si va d'accordo ad alti livelli e in maggioranza su determinate cose. Il calcio italiano però è di fronte alla necessità percepita di cambiare e quindi potrebbero esserci effettivamente profondi cambiamenti di qui a breve che potrebbero magari anche dare una svolta positiva ad un calcio italiano che al di là degli ottimi piazzamenti o degli interessanti piazzamenti nelle competizioni europee, è in calo drastico da anni di competitività e di appetibilità. Grazie a tutti.